Fino a ieri team VR46 aveva un problema, sostituire Luca Marini, se obbligatorio, se necessario, Luca Marini infortunato, da oggi, da ieri pomeriggio, di problemi a due perché si è fatto male a Ranch, anche Bezzecchi. Quali sono le opzioni di VR46? Deve sostituire qualcuno? Lo farà? L'ipotesi? Valentino? Quale potrebbe essere la soluzione? Vediamo un po'. Allora, ciao da Mr. Hermit, vi dico subito, Marini ha già saltato una gara, in realtà fino a tre non si è obbligato a sostituire dei piloti, però diciamo che il tuo team ha già una situazione di presenza, c'è l'altro pilota, ci sono gli uomini al box, ok. In questo caso però c'è un problema, perché sapete molto bene che ieri Marco Bezzecchi si è fatto male a Ranch, una frattura della clavicola e si parla, io non ho queste informazioni, ovviamente non credo le abbiano molti, però insomma di almeno un paio di gare saltate, no? E quindi il problema è che Team Mooney non ha nessun pilota da far correre. Quali sono le opzioni? Allora, io ho sentito Petrucci, Petrucci mi ha detto sì, mi avevano chiamato, ma era un'allerta, ci stavamo parlando, ma per sostituire Marini, quindi adesso cosa succede? Sostituirà Bezzecchi, c'è una differenza, sì forse la moto un pochino, il numero, il gara, no? Perché tanto il numero corre con il suo pilota. Quindi qual è l'opzione di Team Mooney? In realtà c'è l'opzione Pirro, no, l'opzione Pirro no, perché Pirro è un pilota Ducati, al limite poi se fa una walk-car la fa con Aruba, poi dovrebbe tornare sì effettivamente Bastianini, però comunque Pirro non è che può salire sulle moto così, e quindi qual è la situazione? La situazione, quelli che hanno invocato tutti, è Valentino, Valentino potrebbe fare così. Allora, la verità è che Valentino ha tutto da perdere in una situazione così, cioè ha da far guadagnare gli altri, ma lui sinceramente ha da perdere, perché è chiaro che se tornasse Valentino sarebbe una mega story, mega drama, ma che è quello di cui vive bene o male la MotoGP in quest'ultimo periodo, perché non sta certo vivendosi di situazioni tecniche, solo sembra veramente una telenovela, però Rossi potrebbe essere utile alla causa, ma alla causa degli altri, non alla sua, perché effettivamente risulta abbastanza difficile poter ipotizzare, al di là del talento, che Rossi sia in grado di guidare una motocicletta che non ha praticamente mai visto in vita sua, almeno ufficialmente, in una situazione di pista un po' particolare, con dei set fatti per altri e tutta una serie di situazioni che alla fine lo vedrebbero già più sfavorito di quello che era nelle ultime gare prima del suo ritiro. È vero che questa moto un po' meglio della Yamaha che guidava lui, presumibilmente, però è anche vero che stiamo parlando di un pilota che è stato fermo un bel po', e quindi al di là del talento. Quindi potrebbe Valentino tornare, in teoria, tutto è possibile, abbiamo imparato a vedere che tutto è possibile, però la verità è che questa cosa non è fattibile. Intanto però vi dico una cosa, se vi piace tutto questo, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e supportate Mr. Helmet con lo shop, le donazioni, i super stickers, i super grazie e l'abbonamento, e se siete super supporter e sugar daddy potete avere anche il canale dedicato con la chat dedicata alle anticipazioni e i one to one. E adesso vi dico l'ultima cosa per la quale Valentino, in teoria, in teoria, se i contratti valgono ancora qualcosa, non può partecipare, diciamo così, guidando una Ducati, perché Valentino effettivamente, se per il suo team è Moon, i VR46, Ducati, tutte queste robe qui, ed è un team assolutamente e imprescindibilmente Ducati, come uomo, come pilota, è assolutamente Yamaha. E quindi ha firmato veramente, l'unica cosa che Valentino Rossi ha firmato nell'ultimo periodo, dal punto di vista suo, personale, è quello di essere un pilota endorser e ambassador Yamaha. Quindi veramente questa sarebbe una forzatura. Però abbiamo visto poter succedere qualsiasi cosa, anche al di là della logica, e ne sappiamo qualcosa col discorso di Marquez, che poi alla fine sarebbe bello potersi stupire e scioccare anche di una roba così. La domanda che vi faccio io è, se Valentino dovesse tornare, sarebbe, secondo voi, come minimo decente, dal punto di vista del piazzamento? Seconda domanda. Questa cosa della iperinfortunabilità dei piloti, donna alla prevista, perché siamo veramente a un elevato numero di infortuni dentro e fuori dalla pista per un sacco di piloti. Uno potrebbe dire, ah ma tanto lui si è fatto male nel ranch, non si è fatto male mica in gara, cosa c'entra? Non è un infortunio diretto. È vero, però, tutti gli infortuni, chi è stato atleta lo sa, non sono sempre diretti, a volte sono da stress, da stanchezza, da super lavoro e da tutta una serie di situazioni. Quindi non è escluso che l'infortunio di Marco Bezzecchi sia dovuto ad una iperattività comunque in pista e tutto il resto, perché poi i piloti devono anche fare degli allenamenti di defaticamento, degli allenamenti di relax, degli allenamenti a bassa tensione ed è proprio in quelli in cui tu ti fai male. Comunque la domanda è questa. Secondo voi veramente può tornare Valentino? Veramente può essere efficace? E veramente poi ha senso metterci uno qualsiasi? Chi potrebbe essere? Un boh, vera, Migno. Abbiamo sentito tutti i nomi che ne pensate? Sarei veramente curioso. Vi saluto con questa notizia che poi una notizia non è che è un video veramente super light, ma che però circoscrive alcune situazioni prima che si gigantiscono delle robe che non hanno senso. Ciao da Mr. Helmet. 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 Ciao da Mr. Helmet.